... Sembrava dovesse andare tutto liscio, sembrava che la strada per la riconferma di Sibiria alla guida del PDL in Irpinia fosse spianata. E invece qualche paletto c'è, tanto che il presidente della provincia sul mattino di oggi si dice pronto a gettare la spugna e a farsi da parte. Il congresso si terrà il 10 e 11 marzo. Quella del senatore, più che come una decisione, suona come un avvertimento. Troppi gli scontri, le attuali condizioni mi spingono a non accettare nuovamente la carica di coordinatore provinciale. Gli inviti a proseguire, aggiunge Sibiria, mi lusingano, ma il clima non è dei migliori. Il presidente si riferisce allo scontro in corso per la poltrona di vice coordinatore. Tanti, troppi, gli aspiranti. In corsa per una riconferma c'è l'assessore provinciale Generoso Cusano. La consigliera regionale Antonia Ruggiero, però, spinge per una riscesa in campo di modestino Iandoli. Già autorevole esponente di Alleanza Nazionale, con un breve passaggio in futuro e libertà, attualmente Iandoli siede nel comitato direttivo dell'ASI su indicazione del presidente Caldoro. Gli ex AN che fanno riferimento al presidente dell'alto calore, Franco D'Ercole, vorrebbero invece come numero due di Sibiria Giuseppe Ragucci. Fino a pochi giorni fa, vice sindaco di Cervinare, negli anni scorsi braccio destro dell'onorevole Cosenza, quando era segretaria del PDL. L'elenco delle insidie non finisce qui. Scalpitano, per avere visibilità, altre due componenti. Quella dei noi riformatori azzurri di Orazio Sorece, che già ha parlato di congresso deciso a tavolino, e quella democristiana dell'ex ministro Gianfranco Rotondi, che vorrebbe qualcuno dei suoi nella stanza dei bottoni.